Ho 32 anni, sono bella. Io cerco un mascolo, mi piacciono i mascoli biondi, che sono capelli, magri, che sono tartarucchi. Mi piacciono i mascoli, mi piacciono i mascoli. Io lavoro, sono una persona seria, zappa a terra, ammazzai a dina, un porco, cucino, taglio, cuccio, faccio tutto. Io sto cercando te, check me, check me su Prozap, il mio contatto è Papanella Pasquala Pratacò, e check me su Facebook, ho Facebook sul telefono che mi ha già cattato il telefono. E check me, come ha fatto, bella, se mi tali mi riconosci, ho questa foto, con il capello, e check me su Papanella Pasquala Pratacò. Ciao, ti aspetto, check me, ciao! Mua! Ciao!